domani sera sabato 14 settembre a partire dalle 19 piazza plebiscito si anima suon di musica per l'evento religioso noi festival che vedrà la partecipazione del pastore evangelico franklin graham è un appuntamento gratuito che richiama in città migliaia di persone dalla campagna in un solo ed arriva a napoli dopo il successo delle tappe di roma e milano grazie alla collaborazione di oltre 300 chiese evangeliche del sud italia napoli è una città che è stata sempre aperta ed è e sarà sempre aperta a tutti quelli che sono i messaggi la comunità evangelica napoletana estremamente attiva presente in città vicina alle tante fragilità della città e nello spirito e nella storia di napoli questo segnale di presenza apertura e libertà di culto innanzitutto vi invitiamo tutti in piazza plebiscito domani alle dalle sei e mezza apriamo avremo della bella musica e soprattutto ve la facciamo gratuitamente no a nessun costo per la cittadinanza e poi io porterò un breve messaggio di speranza una speranza che comincia da questa vita ma soprattutto una speranza che continua nella vita avvenire